Musica Ergastolo confermato per il super boss Pasquale Condello e per Demetrio Sesto Rosmini, entrambi imputati nel processo scaturito dall'operazione denominata Bless. Condannati per due agguati consumati negli anni bui della seconda guerra d'Indrangheta, esattamente ben 24 anni fa. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, peseduta dal giudice Bruno Finocchiaro, ha colto in pieno le richieste del sostituto procuratore generale Adriana Fimiani, confermando la pena inflitta a Pasquale Condello, ritenuto super boss della cupola provinciale della mafia regina, e da Demetrio Sesto Rosmini per gli inquirenti tra i vertici dell'omonima famiglia mafiosa. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio. Nel dettaglio, Condello, soprannominato il Supremo, sarebbe stato il mandante dell'agguato dell'1 settembre 1990, in cui morì per errore Domenico Catalano e venne ferito Natale Cuzzupoli. Mentre Rosmini pagherebbe per l'autobomba che il 10 settembre dello stesso anno uccise Fortunato Audinò e ferì Giuseppe Zaccone. Condello e Rosmini erano finiti nelle maglie della giustizia nell'ambito dell'operazione Bless, eseguita nel luglio del 2007 dagli uomini della Didia Regina, che squarciarono così quel velo di silenzio calauto su una sfilza di omicidi e regolamenti di conti consumati nel corso della Seconda Guerra d'Indrangheta, che dal 1985 al 1991 contò 800 morti ammazzati nello scontro tra i De Stefano, Tegano e i Condello e i Merti. Fondamentali ai fini delle indagini furono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Paolo Iannò, boss di Gallico, vicino a Pasquale Condello, ieri condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria.